www.feyyaz.tv Trattala bene, che ci tengo? Eh, pensavo che qualcuno l'avesse lasciata. È da donna. Sì, una povera viandante spaziale, no? No, è un regalo. Ma è da donna? Perché è della nazionale femminile di pallavolo. Le ragazze l'anno scorso hanno vinto la medaglia d'argento ai campionati mondiali e quindi, siccome sono un appassionato di sport, l'ho portata a bordo. Pallavolo? Ma un dieci si spezza le unghie? Si vede che non capisci la passione sportiva. E ora che fai, comandante? Un elettroshank? Ma no, questo esperimento, eccolo qui, questo esperimento è un esperimento italiano dell'Agenzia Spaziale Italiana. Serve a misurare la massa grassa corporea. Massa grassa? Comandante mi sa che perdi tempo. Ma no, perché anche se faccio molto allenamento, anche se sto attento a quello che mangio, comunque... Eeeh, vuoi a toccargli le sue noccioline? Buongiorno Steve. Buongiorno. Buongiorno. E' quella? E' di Luca. E' tua? Si, ma perché è un... Ma è da donna? Si, lo so che è da donna, ma perché è un... Dice che è la sua passione. La maglia o la donna? Ha 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 ha! With the station now in its utilisation phase, ESA has a tight schedule of operations to ensure a maximum return on its investment. Much of Parmitano's time on board has so far been spent carrying out experiments in the European Columbus Laboratory, under the guidance of the Columbus Control Center. Grazie a tutti.